Si chiama James Robert e per molti è l'eroe del giorno. È il giudice di Seattle che ha bloccato il divieto di Trump agli ingressi di cittadini da sette paesi a prevalenza musulmana. Il ricorso contro era partito dagli stati di Washington e Minnesota e il giudice di Seattle gli ha dato ragione. Non ci sono fatti che supportano la decisione presidenziale temporaneamente sospesa. La Casa Bianca ha fatto sapere che ricorrerà contro la sentenza e Donald Trump ha twittato contro l'opinione di un cosiddetto giudice che contrasta l'applicazione della legge che sarà superata. Sarà una battaglia contro il mulini a vento, quella del presidente. A prescindere dall'esito della battaglia legale è impossibile che la regola di Trump non abbia eccezioni. Come la piccola Fatem, quattro mesi, iraniana, malata di cuore, respinta in Oregon dopo il bando due giorni fa è stata autorizzata a entrare negli States per un'operazione già programmata. Come si poteva dirle di no? Mentre continuano le proteste contro Trump, le compagnie aerei ricominciano a portare negli States i cittadini stranieri a cui il presidente aveva negato l'ingresso.